ciao ragazzi video pagelle di inter juventus oggi non si parla dell'arbitro stiamo sui giocatori e sul tecnico e vediamo quali sono le nostre colpe o responsabilità ovviamente questo è il video pagelle e voglio dire anzi vorrei dire delle cose sulla partita ma andrei troppo per le lunghe faccio un altro mini video dopo le pagelle quindi tenete le notifiche attive e state pronti perché magari ne parleremo ancora e della partita voglio dire delle cose importanti però voglio fare prima prima di arrivare i voti voglio farvi una confessione cioè proprio bisogno intimo io nel nostro rapporto io con voi sono provato sono molto molto stanco ultimamente non ne ho più ho le batterie scarichissime a livello proprio psicofisico perché perché è una fase senza riposo vedete sto lavorando come un pazzo ovviamente i video sono la punta dell'iceberg perché come sapete ma chi mi segue da parecchio tempo il video i video sono veramente il nulla dietro i video c'è analisi studio dati ricerca partite viste riviste analisi sui conti dell'inter bilancio cioè sono veramente stanco sto dando veramente l'anima e spero che arrivi vi arrivi e sono anche contento di me stesso ma anche di voi di me perché io tendenzialmente ho anche i difetti e uno di quelli è la costanza la persistenza cioè perdo non sono sempre una macchina e invece ultimamente sto reggendo sto tenendo botta un po come Darnian un po come Acerbi un po come Cialanoglu che stringono i denti ma ecco con difficoltà ma quindi sono molto contento di me e poi sono contento di voi perché secondo me c'è anche un po di voi dentro questo mio momento comunque di tener botta perché ultimamente siete molto attivi interagite tanto commentate supportate con i like con i super grazie con gli abbonamenti e quindi questa cosa mi tiene mi tiene su mi da stimolo ed è molto importante questo è un riferimento anche all'inter quando ti mancano le energie hai tanti impegni sei stanco c'è qualche ostacolo eccetera eccetera se hai almeno l'umore tenuto su o hai lo stimolo hai la spinta o ecco tieni botta un po più coriacemente ecco con un po più di hai un po più resistenza quindi io vi ringrazio sono contento di me vi ringrazio molto voi detto questo vado ai voti Onana Onana sei più nessuna colpa e ha fatto anche due buoni interventi uno su chiesa e qualche uscita non perfetta tecnicamente però comunque è riuscito ad essere efficace Darnian sei meno perché affaticato si vede e si vede da come si muove un po come me ce lo vedi che sono degli occhi sono pesantito e dormo poco stanco ecco ad armia uguale da come si muove da come gioca la palla si vede che ieri l'ho visto alcuni movimenti non brillanti non brillanti proprio nella nella coordinazione c'è proprio c'è proprio stanchezza pesantimento e non reattivo neanche sulla palla di Rabiot su quel fallo di mano quella c'è si è fatto un po giocare sul tempo da Rabiot e nel secondo tempo ha fatto una buona chiusura su Kostic però insomma è acciaccato si vede che sta tirando i denti sta stringendo De Vrij 6 lotta e sportella con Blaovic pur non essendo il miglior De Vrij è fresco almeno lui e si vede cioè proprio fa una differenza cioè a livello proprio di movimento di lotta fisica di tenere botta o fisicamente tiene uno dei pochi che tiene la partita non a caso non è a caso pur non essendo il grande Vrij eccetera Acerbi 6 lo voglio premiare perché ha stretto i denti in una maniera allucinante sta giocando tanto ha giocato addirittura da terzo spingendosi anche in avanti provando un po non è bastoni e si vede Anche lui però ha le pile scariche cioè si vede che è proprio stanco ha stretto i denti a volte era anche piegato in due qualche dolore qualche cosa fa al massimo ma è al limite Oh ragazzi ieri l'ho già detto partita negativa poi poi faccio un video su questo anche però non ne avevamo non ne avevamo e tanti giocatori acciaccati mezza squadra fuori quella che ha giocato per tre quarti non era non era proprio in condizioni E ah una cosa adesso arrivo anche a Dunfres che avete già visto il voto una cosa importante perché qualcuno può dire eh ma anche la Juve sì ragazzi ma dipende come giochi Cioè se l'Inter è una squadra che deve giocare è corale e tutto quanto è ovvio che paga di più se non è se non è al 100% una squadra che non gioca e vuole si chiude fa palla lunga sulla velocità può anche non essere al 100% se ha qualcuno che cora davanti è a posto ok cioè cerchiamo un po' di ragionare con la testa con la testa perché ce l'abbiamo siamo esseri umani Oddio non tutti forse però insomma qua in questo canale sicuramente Dunfres 4 e mezzo scandaloso in difesa scandaloso eccetto il recupero che ha fatto prima di uscire dove ha tenuto un po' botta lì così ha dato un po' di impegno ma il resto è scandaloso Sul gol imbarazzante ha fatto una cosa imbarazzante addirittura se guardate avrei voluto prendervi l'immagine di Onana a farvi vedere il gol però ecco la stanchezza comporta che mi sono proprio dimenticato di questa cosa Però vedetevi l'azione Dunfres sta basso non va neanche in uscita addirittura Onana deve sporgersi sul suo primo palo per guardare Kostic dove tira e ovviamente tira dall'altra parte quindi poi non ci può arrivare Dunfres è qualcosa di allucinante non ho parole non ho parole 4 e mezzo così per l'impegno altrimenti potrebbe essere anche 3 ripeto Dalbert Dalbert 2 Barella 5 Per concludere Dunfres Sono proprio Stringendo i denti e mi percio Ho fatto il video 50 volte ma non posso darti più Dunfres una cosa importante volevo dire è questa È un giocatore limitato tecnicamente Se è pure stanco o non è in condizione mentale e fisica Tabula rasa Cioè questo è la sintesi su Dunfres Andiamo avanti su Barella 5 Anche lui stanco e se non è il meglio perde lucidità e perde ritmo e sono le cose che lo caratterizzano di più Parte nervoso dall'inizio e questa cosa comincia a essere veramente stancante Non ne posso veramente più È un indice di instabilità mentale e di maturità a livelli cosmici cioè non è possibile Lukaku prova due volte due tre volte a sedarlo a parlarci a calmarlo ma senza risultato C'è proprio un giocatore che non può essere che uno non abbia il cervello per ragionare e sia così poco lucido Esce scalciando Per me è inaccettabile Ed è per quello il 5 perché sennò potrebbe stare anche 5 e mezzo Cioè non è Però veramente non ne posso veramente più Il giocatore se sta bene non è in discussione forte Non sto parlando della qualità di Barella O se è valido o no come giocatore Ma io sono veramente stanco di vedere questi atteggiamenti Lo scalcio Lo sbraitare L'urnare contro l'arbitro Prendere gialli di protesta Costantemente Per me è intollerabile È inaccettabile Fine Non voglio dire altro per non dire altro Perché non voglio perdereci tempo Ma per me è una cosa che non voglio vedere all'Inter Non può succedere all'Inter Non esiste questa roba all'Inter Fine dei discorsi Brozovic 6 6 perché Qualcuno l'ha visto male ma Io ho rivisto la partita E non mi è sembrato così male Perché poi le cose vanno contestualizzate Non ha 90 minuti Ovvio non è il miglior Brozovic forse Però Finché può Finché può Finché ha fiato Fino al settantesimo Si è mosso bene secondo me E ha mosso bene anche la palla Peccato che manchi bastoni Peccato che Di Marco sia KO Peccato che il centrocampo intorno a lui Non si muova Sia poco lucido E sia stanco Per anche per ragioni Non colpa sua però è così Quindi ragazzi È difficile Per Brozovic Certo non si muove nessuno E non verticalizza Ma non c'è Cosa verticalizzi Che la Juventus È tutta compatta dietro Non c'è verticalità Non c'è verticalità Devi giocare la palla Ma se hai intorno a te Gente che non gioca la palla Ti manca bastoni Di Marco non c'è Abbiamo mai costruito Su la sinistra Ma Di Marco ha stretto i denti Per essere in campo Doveva neanche giocare la partita Cioè intendiamoci E intorno a lui C'è Barela C'è la Noglu Che sono stanchissimi Che caspita può fare Brozovic Secondo me Contestualizzando Brozovic è da 6 Ragazzi Lo dico Dico ragazzi Ma lo dico In realtà Sono pochi Sbaglio sempre Sono 3-4 persone Che commentano E ecco La gente Che ha testa Capisce queste cose Non c'è neanche bisogno Di spiegarle In realtà A volte Dovrei appunto Soprasiedere Ecco Secondo me lui La partenza L'ha fatta bene Da dietro Ma è lo sviluppo Che poi è sterile È lo sviluppo Poi della squadra Che è sterile Ha pulito Ha recuperato Vari palloni sporchi Certi passaggi Gli sono arrivati Dai suoi compagni Abbastanza imbarazzanti Sporchi Imprecisi Ha dovuto sempre Correre ai ripari Correre indietro Far la scivolata Recuperare il pallone Perché era È bello Giocare così Quindi però Lui l'ha fatto Senza di lui Secondo me Avremmo Non l'avremmo fatto meglio Avremmo faticato Ancora di più Perché ne avremmo faticato Non solo nel sviluppo Che era già sterile Ma anche dal basso Nell'uscire Dalla palla al pie Ma uscire è palla al piede Quindi Io comunque Brozovic I sei glielo do C'è la Noglu sei È un sei diverso Lo premio È un sei di premio Per la grande voglia Perché ha fatto Due tre sgasate Di recupero Che mi sono piaciute Nell'attitudine Quindi questa cosa L'ho apprezzo molto Affinché ha Ha energie Dall'anima E questa cosa Mi piace tanto Per me C'è la Noglu È uno dei pochi Incedibili C'ha lei bastoni Se volete Due miei incedibili Di questa Inter Il resto Tutto il resto Si può Si può valutare Francamente Sono giocatori fondamentali Per quello che danno in campo Ma anche per Quell'aspetto tattico Che rappresentano Nell'Inter Togli bastoni Infatti L'Inter fa proprio fatica Togli Ciala Probabilmente Poi ecco A parte questo Non ha dato La solita qualità C'era Noglu Ha sbagliato Anche qualche pallone Poi addirittura Quando la stanchezza È arrivata proprio Al 100% È crollato Ha sbagliato Pure i piazzati Cioè ieri La prestazione sarebbe Da 5 e mezzo 5 più 5 e mezzo Dato l'impegno È tutto La corsa È 6 Lo porta a casa Poi abbiamo Abbiamo Di Marco 6 anche per lui Perché anche lui fa il massimo Ragazzi Ma pure per gli altri Cosa posso dire Il suo massimo È poco Ovvio Ma non sa bene Ha giocato Stradigendo i denti Non va neanche a giocare Perché Mancava Gosens E quindi Si poteva partire Con D'Ambrosio Si prova con Di Marco Però di fatto Poi è Uscito Rifacendosi male Perché non era in condizione Siamo alle corde Ragazzi Lautaro Lautaro 4 e mezzo Bruciato da Bremer Bruciato da Gatti Bruciato da Fagioli Non ci siamo proprio Sarà pure stanco Anche lui Però Almeno da uno come lui Che non ha la tecnica Né il sopraffino Né un rifinitore Ti aspetti che almeno Dia la carica Provi C'è la no glue Eppure un giocatore di qualità C'è Dà molta più grinta Di Lautaro C'è Lautaro Non dà né qualità Né movimento Non si muove Si fa anticipare Non dà neanche grinta Ragazzi Di cosa stiamo parlando Se le partite negative Di Lautaro Quest'anno sono molte Al netto dei gol Si che ha fatto All'Inter ha creato L'Ira di Dio Eccetera Ma sono tante le partite negative Non dà neanche la sensazione Di lottare Quale capitano Ragazzi Ma dove Luca capitano Che potevamo avere Futuribile L'abbiamo smembrato Gestendolo di merda Questa è la verità Lautaro non è un capitano Fine dei discorsi È un buon giocatore Ma secondo me Ipervalutato Dai più Basta Abbiamo già parlato Di Lautaro Lukaku 6 Questa è Lautaro non è che è colpa Poi lui È la dirigenza Ma ne parleremo Lukaku 6 Gli arrivano pochi palloni Non è ancora al top Ma E poi se non è motivato Lukaku non si accende Completamente Lo sappiamo che giocatore è Però Almeno Tiene su palla E fa presenza Almeno fa presenza Qualche lottatina Qualche Qualche corsetta Qualche coso Nel pochi palloni serviti Almeno ha fatto presenza E poi Davanti ha giocato da solo Quindi anche Va contestualizzato Si diceva di Lautaro Eh ma gioca senza un partner Adesso Lukaku Ieri ha giocato Non senza un partner Proprio Un in meno Proprio completamente Andiamo poi da Mkhitaryan 5 e mezzo Che è entrato Per dare fiato E riuscidità Ma di per sé Non è anche lui È scarico pure lui E non ha migliorato Molto la situazione Bellanova Lo voglio premiare Anche se Dargli un voto così Però Sei più Perché solo quel dribbling In quel momento Dove l'Inter Non ha freschezza Non ha chi punta l'uomo Non ha brillantezza Bellanova È fresco L'hai visto In un secondo Ha fatto due robe E le ha fatte bene E andò via E poteva essere usato Molto prima Quindi Quindi sei più Voglio dargli il voto Lo stesso Inzaghi 5 La formazione È giusta Secondo me Perché poi Qua è una del prima Cioè non è che Quello è È anche la tattica Secondo me è giusta In realtà È giusto Avere ritmi più bassi Perché all'Inter Non poteva permettersi Di avere ritmi alti È giusto Spingere con Darmian Sulla destra E non con Acerbi Di Marco Che erano distrutti Giusto È ovvio che Non è perfetto Spingere sulla destra C'è Dufres Però non c'erano Altre soluzioni Cioè La tattica Non è che sia perfetta È l'unica roba Che si potesse fare Francamente Poi È giusto Mettere Brozovic Per avere almeno Un po' di pulizia Di freschezza dal basso E tenere ritmi ragionati Cosa che si è fatta E Se non l'avessimo fatto così Se l'avessimo fatto così Se l'avessimo stato ancora peggio Probabilmente Un episodio D'un freeze arbitro Quello che volete Che ha condizionato la partita Questo sicuramente Perché Un interno aere Che fa anche solo un punto Era tanto prezioso Secondo me ieri Per come ci arrivavamo E per come eravamo messi in campo Acciaccati e via Forse Si può dire Che a livello strategico Potevamo lasciare a loro La partita Per noi ripartire Teoricamente Però in realtà Se uno ci pensa Loro sono molto veloci Centrocampo Rabiot E altri Sono Costi E via Sono anche veloci Molto in difesa Perché Bremer è un giocatore veloce Danilo comunque un giocatore veloce Noi con chi ripartiamo Che siamo stanchi E Lukaku L'unico che può ripartire E non è in forma Con chi riparti Quindi Aver deciso di dire Mettiamoci bassi E ripartiamo Forse avremmo dato Avremmo avuto lo stesso risultato Sconfitta E con in più Addirittura La Juventus Che domina il possesso E ci bullizza Forse ancora Sarebbe stato ancora peggio Poi loro comunque davanti Arrabbiò Blavich Che si inserisce Se stai basso E accetti Le loro incursioni Non è che ti va tanto meglio Ragazzi Mettila come vuoi Ma secondo me L'aspetto di preparazione Cambi poi vediamo Non si può dire nulla Inzaghi Non mi sento di dare Nessun voto negativo Per questo Avrei fatto la stessa cosa E lo sapete Perché io coerentemente Nel pre partita Ho preparato la partita Che ha preparato Inzaghi Poi chiaramente Non è che Mi aspetto che Dunfriss Faccia quelle cazzate lì Anche se Ma casomai È un altro Adesso ne parliamo anche quello Dicevo Eravamo totalmente K.O Eravamo corti Di panchina E non ce n'era Mi dispiace Per una squadra Che è costretta Al gioco corale Perché non ha altre soluzioni È un disastro Questa situazione E quindi Ne paghi le conseguenze La sola responsabilità Di Inzaghi Come stavo un po' dicendo Prima di fare i cambi Nel discorso Dell'acciacco fisico E tutto L'unica roba Che posso dire Inzaghi È che Avrebbe dovuto Cercare di utilizzare Qualcosa in più Durante la stagione Bellanova E Aslani Per non arrivare Con Almeno arrivavi Con due giocatori Meno cotti Ecco A questo punto della stagione Bisogna avere un po' di più Di fiducia Un po' di più Di coraggio E utilizzarli Qualcosa in più Che mica volevo dire Fagli fare Sette partite titolari Però qualcosa in più Già è tanto Perché basta Che sgravi qualche minuto A qualcuno Alciala una volta Mkhitaryan Qualcuna altra volta Aslani lo metti Una volta mediana Una volta mezzala Bellanova Un po' di più Su Dumfries E ti trovi In una situazione Un po' diversa Quindi su questo Bisogna dirlo Poi sui cambi Ecco Forse si poteva fare Qualcosa meglio Sui cambi Ecco perché il 5 Serviva più coraggio Togliendo Lautaro Togliendo Dumfries Non me ne frega niente Che abbiano quel nome Lì Non me ne frega niente Che Dumfries Vada rivalutato Non me ne frega niente Di Lautaro Che è Lautaro Sti cazzi Colpa della dirigenza Che doveva cedere Uno e anche l'altro O almeno uno dei due E adesso non può essere Inzaghi Che debba rivalutarlo Quindi se c'è questa Considerazione Siamo fuori Inzaghi Va a fare quello Che è giusto fare Non quello che va fatto Perché i Mumbai Tifosi O perché la dirigenza Va fatto Quello che va fatto Fuori Lautaro Fuori Dumfries Al sessantesimo No all'ottantesimo Al sessantesimo Senza aspettare Stavamo giocando in 9 E non è una cosa Comprensibile E scusabile Fine Lukaku Andava lasciato dentro Per quanto non stia facendo Non stessa facendo Chissà cosa Ma sicuramente Almeno faceva Molto meglio di Lautaro E poi Almeno Se non hai ritmo Non hai fiato Almeno Datti peso In area E fisico Quindi metti Dzeko Lukaku davanti Gioca un po' sporco Gioca sul fisico E l'unica roba che hai Tientela almeno Visto che non hai Né ritmo Né lucidità Né fiato Datti sul peso E sulla freschezza Magari di un bella nova Eh dai Quindi secondo me È cannata questa valutazione Vedendo poi La condizione fisica Della squadra Concludendo Dicevo ecco Sulla partita Non ho molto da dire Un punto sarebbe stato Preziosissimo E pesantissimo Date anche la sconfitta Del Milan E anche della Roma Peccato non averlo portato a casa Adesso la sosta è santa E da santificare Perché per noi è vitale Anche se purtroppo Ci andiamo da sconfitti E quindi Può essere Ottimo dal punto di vista fisico C'è un po' di sosta Non per tutti Perché qualcuno Andrà pure in nazionale Ste malediette nazionali Io non le sopporto Cazzo Trovarsi un altro modo Di farle a fine stagione Va fanculo Ma vabbè Però Sì bene Da punto di vista fisico Ma da punto di vista psicologico No Perché finire Andare in pausa Con una sconfitta In questa situazione qua Poi con la dirigenza Che non tutela il tecnico E via È un dramma Cioè se non vediamo l'ora Che arrivi la prossima partita Per provare ad avere Delle vibrazioni positive Perché altrimenti Stiamo qua con lo psicodramma Cioè È un Cioè proprio Mentalmente È Pfff Vabbè Ragazzi Detto questo Vi faccio un altro video Adesso per dirvi altre cose Sulla partita E poi Poi devo Poi tirerò le cuoie Probabilmente Cioè Morirò Sono stanco morto Proprio mentalmente Sono Ho bisogno di dormire 12 ore E di non pensare a niente Di svagarmi Perché Sono caputto Sto dando l'anima Ma non ne ho più Devo ricaricare le batterie Come a Cerbi E Darmi I professionisti Però Che anche loro Non sono infiniti Ragazzi Neanch'io Io ancora meno di loro E poi non guadagno milioni Quindi devo dare qualche stimolo in meno Detto questo ragazzi Vi saluto Forza Inter Grazie per il vostro supporto Per la vostra vicinanza Siete davvero Una roba Una bomba Pazzesca E Vi voglio bene Grazie 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 Veramente A tra poco Faccio un altro video Grazie a tutti Grazie a tutti